Grazie a Mauro, grazie alla Libreria Salvemini per l'ospitalità. Mi presento, sono Carla Maria De Bortoli, naturopata e tarologa. Tra l'altro io ho preso l'attestato di tarologa dal dottor Carlo Bozzelli dell'Accademia dei Tarocchi che è stato ospite qui il 9 febbraio con una conferenza qui alla Libreria Salvemini. Eccolo lì il codice dei tarocchi, il libro di Bozzelli. E quindi è stato il mio insegnante. Ed è grazie anche al metodo di lettura proprio delle carte che sono arrivata all'associazione degli arcani maggiori con i 9 eneatipi. Però per dire come sono arrivata a scrivere questo libro, perché intanto io ho fatto la scuola di naturopatia di Rizza del dottor Morelli a Milano e lì ho, chiaramente tra tutti i vari argomenti, ho conosciuto l'enneagramma tramite il dottor Maurizio Cusani ed è stato il mio primo insegnante di enneagramma ed è anche, guarda caso, un esperto di tarocchi. E mi ha colpito moltissimo lo studio di questo strumento. Poi, cammin facendo, ho conosciuto Bozzelli, ho incontrato i tarocchi, anche se li conoscevo. I tarocchi diciamo che mi si era aperto il mondo quando lessi ancora ai tempi del liceo Italo Calvino, il castello dei destini incrociati, che sicuramente qui in libreria da Mauro lo trovate. Se non l'avete letto ve lo consiglio, perché è bellissimo. Tra l'altro lui all'interno del libro ha fatto mettere le carte, solo in bianco e nero, però i disegnini delle carte, dei disconti sforza, che poi sono stati ripubblicati da Franco Maria Ricci, che è una casa editrice stupenda, lì a Parma, sono anche andata a vedere. E quindi è bellissimo, insomma, era una cosa che mi ritornava, questa cosa dei tarocchi, mi ha sempre incuriosito. E poi i cristalli, perché comunque i cristalli vanno poi indossati, come vedete io sono piena di pietre, come la mia amica Valeria, amo le pietre, quindi non so, c'è l'ametista, c'è il quarzo citrino, ho il lapislazuli, ho l'anello, questo simbolo dell'enneagramma con una labradorite, perché comunque anche le pietre hanno un'ambra, e poi vedremo anche l'associazione magari con gli arcani e le pietre, perché anche le pietre hanno tantissime cose comunque da comunicarci. Intanto sono bellissime da vedere, e quindi già solo quello, già solo la bellezza ti apre comunque il cuore. E poi oltre a fare bene a me, che magari lo sto indossando, però fa bene anche alle persone che li guardano, che li osservano, perché poi è chiaro, loro hanno magari un'aura, come dire, limitata, sono, diciamo, la loro vibrazione può essere non così ampia, però comunque comunicano, e oltretutto se noi consideriamo i cristalli, sono proprio, come dire, l'ossatura di nostra madre terra, noi tutti i giorni ci appoggiamo i piedi, quindi comunque noi attingiamo in ogni caso energia dal manto terrestre, che poi ci sia il pavimento, la pavimentazione, però comunque noi appoggiamo i nostri piedi e ci porta, e quindi l'energia comunque ci dà la forza di andare avanti, di camminare una direzione. Quindi questi tre strumenti, in qualche modo, li ho messi insieme. I cristalli, soprattutto, sono comunque eclettici, stanno comunque bene con qualsiasi tipo di strumento, sia nel campo, non so, del massaggio, chi fa il massaggio, comunque chi si occupa di lavori comunque olistici, chi fa il teta healing, cioè il cristallo è comunque sempre un veicolo, e quindi sono strumenti che, come dire, vanno bene in qualsiasi situazione, sono proprio degli amici, possono essere proprio dei potenti alleati. Quindi vi invito, al di là che magari sono più, magari gli uomini possono dire, ma noi non indossiamo il gioiello, no? Però la pietra, anche la pietra grezza, un sassolino, lo si può sempre tenere in tasca, oppure in casa lo si può mettere sul tavolino, cioè anche quando si entra in casa, si torna a casa, già solo quella luce, no? Ti rimanda comunque un'informazione di benessere, ti fa stare bene. Allora, quindi, qui vedete la copertina del mio libro, e andiamo avanti. Una delle cose, perché non riesco ad andare avanti, vediamo un po', devo chiamare Mauro? No, eccola qua. Vabbè, questo è il quadro di Gauguin, queste sono le tre fatidiche domande che prima o poi ognuno di noi, a un certo punto del cammino della sua vita, qui oggi sono andata in Santa Croce, ho visto il monumento dedicato a Dante Alighieri, e queste comunque sono le domande, chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo. E poi però c'è un'altra domanda ancora importante, che viene ben rappresentata. Lo puoi allargare? Credo di no, mi sembra che Mauro mi abbia detto... Sì, perché mi sembra che mi avesse detto che forse rischiavo di, non so cosa fare, vediamo un po', forse qua, non vorrei... No, lì lo chiuso... Perché questo è il Mac, e non vorrei... Eh, ora il Mac non... Ma non ci dovrebbe essere... Presentazione, qua, presentazione, qua. Però ci dovrebbe essere un più per allargare. Sì, qui, presentazione, qui? No. No. E infatti, magari proviamo a chiamare lui. Magari se qualcuno lo vuole chiamare, perché non si vede tanto bene. Non vuoi vedere quelle... No, no, io vedo bene qua, perché ho il computer, era la signora. No, ma dico, vuoi vedere la tua progressione per cliccarci sopra? Perché se poi fai tutto schermo, magari vedi solo... Ah, sì, sì, sì. No, per me no, era forse perché vedeva meglio lei. No, no, sì, perché io sono un po' cieca. No, no, però non vorrei perché questo è... No, 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 no. Comunque, c'è ancora... Ritorniamo alle nostre fatidiche domande, ma c'è ancora una domanda che, tra l'altro, il maestro Gurdjeff, e vediamo poi dopo chi è questo Gurdjeff della quarta via, vedo che qualcuno già ne ha sentito parlare, domandava ai suoi allievi, no, e chiedeva... Massimo è così, ok, non l'avevo capito bene. Sì, sì, no, ma benissimo. Non ho parlato alla difesa, purtroppo. No, no, infatti, non mi ricordavo bene. Quindi la domanda è, ma che direzione vuoi dare alla tua vita? Qual è il tuo compito? Che cosa sei venuto a fare su questa terra? Quindi è ben rappresentata da Casa Dio. Questo è l'arcano 16, Casa Dio. Quindi qual è il progetto? Carla, perché sei qui? Che cosa fai qui? Penso che prima o poi tutti, un po' una domanda del genere, ce la facciamo, magari quando si è giovani, forse non tanto, però poi man mano la vita ti fa... Ma che cosa stiamo facendo? Perché? Dove vado? E adesso vediamo questi strumenti, come ci possono aiutare. Quindi abbiamo l'enneagramma, i tarocchi e i cristalli. L'enneagramma è questo simbolo, questa stella a nove punte, una stella a nove punte, circoscritta da questo cerchio. Adesso questo gioiellino è stato impreziosito da una pietra, quindi questo è un di più, ma il simbolo è quello che vedete lì nella slide. e quindi sono nove, nove tipologie, nove famiglie, nove cantoni, nove punti. N dal greco appunto vuol dire nove. Ed è un antico insegnamento di sviluppo dell'uomo ed escrive queste nove tipi di personalità e il rapporto tra di loro. Il mio insegnante di enneagramma, ma non solo lui, comunque dicono che si nasce in quella base e si morirà in quella base. Il nostro compito è quello di intanto di scoprire a quale base apparteniamo e poi ovviamente di andare a smussare quelli che sono i nostri vizi, i nostri difetti, perché vedremo che gli enneatipi hanno tutti il vizio, buonasera, benvenuta, hanno il loro vizio, ma anche la loro virtù. Cioè noi dobbiamo ovviamente tendere alla virtù e quindi dobbiamo andare comunque a scoprire intanto dove, dove siamo, chi siamo, no? E quindi ecco, questo è il lavoro, il nostro viaggio. Infatti io in copertina ho messo l'arcano senza, l'arcano senza numero, lo zero, comunque l'arcano senza numero non va bene, il matto, che rappresenta l'anima di ciascuno di noi. Quindi rappresenta l'anima Carla, che a un certo punto ha deciso di scendere su questa terra, ha scelto quei genitori, ha scelto di nascere lì e di incarnarsi e quindi ha sviluppato quell'enneatipo. Pare che l'enneatipo si sviluppi già quando siamo nella pancia della nostra mamma e appunto poi si sviluppa e sarà così. E quindi il nostro lavoro è quello di scoprire. Sì, hai scelto, sì. E quindi inizia, insomma, il suo percorso, inizia il suo viaggio. I tarocchi. E i tarocchi sono un'intelligenza millenaria, come dice il mio insegnante Carlo Bozzelli, è un'opera sacra, il tarò, è un'intelligenza, quindi è un'unità, è un libro, è un libro muto, un libro fatto per immagini e hanno tantissime cose da dirci. Cioè su ogni carta potremmo starci una settimana a parlare, sono stati scritti fiumi di parole anche sui tarocchi, oltre che sull'enneagramma, sui tarocchi ancora di più. E quindi diciamo che il lavoro sinergico dei tarocchi con l'enneagramma possono farci scendere ancora più in profondità, proprio a scandagliare ancora più profondamente quello che è il desiderio della nostra anima, cioè la nostra vera natura, il nostro, proprio il nostro sé, quell'essenza, perché appunto l'enneagramma ci fa proprio scoprire le persone, i vari pezzettini della nostra personalità, sciogliere questo ego per arrivare a quella che è la nostra vera natura. E poi i cristalli, quindi i cristalli, abbiamo detto che anche loro hanno tantissime informazioni da darci. Adesso giusto per, visto che abbiamo parlato del matto, possiamo dire che adesso in copertina io ho fatto mettere il turchese perché a me piace moltissimo come pietra e poi questa, diciamo, questa pietra assomiglia un po' ad una massa cerebrale, no? Quindi sembra quasi un cervello e quindi la conoscenza, no? Cioè in fondo uno dei compiti e uno dei motivi per cui siamo qui sicuramente è la conoscenza, la sete di conoscenza, cioè quello che ci, ecco, sparita la slide, scusate. Quindi il turchese è la quintessenza, è quello che può, come dire, connettere l'anima da madre terra a padre cielo, cioè il turchese e il grande spirito. Invece la pietra associata al matto è il lapislazzuli, lapislazzuli che è la pietra blu, una pietra bellissima blu, io stasera ho questo anello di lapislazzuli, magari la conoscete qual è la pietra e ha delle inclusioni di pirite, la pirite la pirite che è un minerale di ferro, una base di ferro diciamo, contenuto è ferro e la pirite quindi ricorda molto lo scintillio delle stelle, quindi questa pietra blunotte con queste inclusioni di pirite ricorda un cielo stellato e il matto se voi osservate tra l'altro è l'unica carta che ha lo sguardo verso l'alto quindi lui indica qualcosa vuole andare da qualche parte quindi quest'anima che rappresenta ciascuno di noi ha già un'idea vuole andare da qualche parte e quindi quale pietra meglio del lapislazzuli può fare compagnia al nostro amico matto voi osservate la carta il matto ha un fagottino con sé chissà che cosa ha lì dentro sicuramente avrà anche un pizzico di follia perché comunque bisogna anche essere un po' pazzi nella vita altrimenti no c'è che noia però magari chi lo sa lì dentro lui ha anche un pezzettino di lapislazzuli e quindi va parte e va a un cane il cane a qualche parte abbiamo un piccolo cagnolino Oscar e il cane e il cane rappresenta la fedeltà quindi il nostro amico matto parte fedele a che cosa fedele a quella che è il suo desiderio a quello che vuole la sua anima prego ciao buona serata ciao grazie e quindi è una carta molto importante molto significativa quando esce questa carta già con questa c'è da lavorare già solo con questa carta qui quindi però adesso dobbiamo vedere un pochino che cos'è l'enneagramma quanti di voi conoscono hanno già sentito parlare dell'enneagramma parte Valeria qualcuno tu qualcuno ne ha sentito la signora no no poco allora vediamo un po' intanto dunque l'enneagramma eccolo qua se riesco eccolo qua cominciamo con questa allora simbolo dell'enneagramma questo simbolo misterioso esoterico è stato portato in Europa a conoscenza insomma in Europa da questo maestro da questo Gurdjieff a Quarta Via lui non scrisse mai nulla dell'enneagramma insomma pare che comunque lui abbia conosciuto questo questo metodo nell'ambiente dei monaci sufi dell'islam quindi agli inizi del novecento e poi l'ha portato è venuto in Europa a Parigi ha fondato una sua scuola la scuola del priore dove comunque tanti allievi ha avuto tante insomma persone che l'hanno seguito e quindi lui dava i suoi insegnamenti non ha mai scritto nulla però dei suoi discepoli di Ospensky che ha scritto i frammenti di un insegnamento sconosciuto che vi invito eventualmente a leggere o a chi vuole poi cominciare questo tipo di percorso è un libro sicuramente da avere in libreria ne ha parlato però non si sa ecco chi per primo ha disegnato questo simbolo poi però nel 1970 negli anni 70 dal Sud America Oscar Iciazzo insieme ad altri psicologi psichiatri tra cui anche Claudio Naranco che magari avete sentito nominare è una psichiatra che mi sembra che sia mancato due o tre anni fa però qui in Italia lui ha portato il SAT è una scuola molto molto importante proprio sull'enneagramma è ancora oggi comunque attivissima perché ovviamente ci sono i suoi collaboratori le persone che portano avanti questa scuola e quindi in quegli anni avevano Iciazzo era arrivato a conoscenza di questi libri scritti da Bennett da Ouspensky eccetera e quindi avevano proprio così creato una loro scuola quindi da lì poi a piano piano si è divulgato nel Nord America e poi è arrivato in Europa forse uno dei primissimi libri è stato scritto da Ellen Palmer negli anni 80 e forse quello è il libro anche un pochino più semplice più facile anche così da di lettura eccetera poi ci sono i libri di Naranco e ormai ce ne sono del Dottor Cusani insomma ce ne sono ormai tantissimi però ecco questo maestro Gurdjieff tra l'altro un 8 un Natipo un Natipo 8 poi vedremo le 9 tipologie quindi era molto cioè dava comunque i suoi insegnamenti e adesso vediamo perché ce ne sono tantissime di cose vediamo il se ci sono domande ogni tanto fermate mi chiedete perché mi vengono in mente tante cose e vediamo quindi un po' velocemente rapidamente e le 9 tipologie allora il maestro Gurdjieff aveva ancora suddiviso queste 9 tipologie sotto 3 centri di energia quindi abbiamo in alto l'8 il 9 l'1 non so se si vede dalla slide 8 9 1 che sono quelli più istintuali che cosa faccio poi abbiamo il 2 il 3 il 4 che sono più nel cosa sento quindi più il cuore e poi abbiamo il mentale l'intelletto 5 6 7 quindi abbiamo queste 3 energie che dovremmo tra l'altro cercare di tenere sempre in equilibrio quindi già qui magari qualcuno di voi potrebbe cominciare a dire io sono più mentale io sono più sentimentale sono più nel cuore l'altro invece può essere dire no io sono uno che agisce è chiaro tutti agiamo tutti abbiamo l'istinto tutti abbiamo il cuore l'amore però ci sono appunto delle tipologie che più hanno questa questa energia non so più come dire marcata anche a momenti però vedremo come l'enneagramma è così così capillare quindi allora cominciamo dalla tipologia 1 dicevamo che ci sono i vizi e le virtù quindi qui nessuno se la deve avere a male perché comunque il vizio è il vizio ma è chiaro da qualche parte bisogna cominciare perché comunque siamo tutte persone in cammino persone che vogliono cercare di sgrossare delle cose e tra l'altro i vizi capitali sono sette qui qualcuno mi può dire come mai qui ce ne sono nove appunto l'enneagramma è ancora più capillare è ancora più preciso su questa cosa vedremo perché si sette vizi capitali annunciati diciamo dalla chiesa ancora dai monaci del trecento dopo cristo e vagrio pontico sono sette e però qui abbiamo in più la paura e la vanità e vedremo che ci sono anche queste due che sono denominati vizi perché chiaramente per la chiesa la vanità slavana gloria non era considerato un vizio e la paura assolutamente no perché comunque il timore di dio doveva comunque mantenere per cui la paura non era assolutamente un vizio invece qui vedremo che ci sono anche questi due quindi la tipologia 1 il vizio e l'ira l'ira perché c'è quella rabbia quella rabbia che perché il tipo 1 è il perfezionista la tipologia 1 ovviamente una persona già la parola perfezionista ti dà la sensazione di una persona un po' rigida quindi ovviamente deve tendere alla tolleranza deve tendere alla flessibilità quindi la tipologia 1 giusto perché siamo a Firenze e oggi ho recato omaggio a Dante Lighieri Dante Lighieri un 1 un eneatipo 1 chiaramente un eneatipo sicuramente di alta levatura spirituale però un 1 perché comunque una persona molto nel cioè lui ha creato e ha messo delle persone nell'inferno nel purgatorio nel paradiso quindi cioè la tipologia 1 è quello che comunque vuole migliorare se stesso ma vuole migliorare anche gli altri vuole migliorare il mondo quindi sicuramente lui incarna molto bene questa tipologia quindi questo quando le persone non fanno come tu dici ti crea magari quel moto di rabbia magari conoscete qualcuno qualche uno no no così poi andiamo avanti scendiamo verso il cuore la tipologia 2 qui è la superbia la tipologia 2 e la tipologia no l'amore è una cosa meravigliosa per tutti l'amore è una cosa meravigliosa per la tipologia 2 l'amore è una cosa meravigliosa ma lei o lui sa che cosa è bene per l'altro quindi cioè diventa una frase che magari a qualcuno può stare un po' stretta no il 2 però lo sa che no e quindi sono quelle persone ovviamente no le mamme magari troppo accudenti no quelle persone quindi è chiaro che però ti danno tanto ti danno ti danno ti danno però poi magari vogliono qualcosa in cambio quindi se non glielo dai magari si arrabbiano quindi la supervia deve chiaramente andare verso comunque l'umiltà no deve cercare di chiaramente sono proprio due parole due perché ripeto ci sono corsi che durano nove giorni di enneagramma quindi figuriamoci cioè proprio io non voglio mancare di rispetto a nessuno nessun maestro però insomma cerco di di dare un po' qualche dritta poi scendiamo e andiamo alla tipologia 3 più che altro perché poi c'è anche un minimo di abbinamento con i tarocchi quindi la tipologia 3 è la vanitas il vanitoso la tipologia 3 era quella che Jung non aveva contemplato perché sono gli uomini le donne di successo quindi una donna un uomo di successo non ha mica bisogno e invece no vedremo che sono proprio quelli più danneggiati perché l'apparire non so il mondo hollywoodiano non mi sembra poi così di successo sì sì magari la cantante madonna sarà ricchissima sarà però poi alla fine non sappiamo quanto tutta questa bellezza se poi così bella se così insomma è un mondo molto appariscente il fine giustifica i mezzi ecco probabilmente Machiavelli in 3 la strategia quindi ovviamente si autoingannano perché insomma se io a 25 anni vado già a farmi rifare tutta perché devo comunque apparire in un certo modo devo però insomma invece cercare di dare invece più peso all'autenticità essere meno narciso e magari non far venire fuori invece quello che è l'aspetto non più bello più vero quindi il 3 la vanitas quindi ci sarebbero anche i narcisisti sì ma anche sì anche altre sì sì perché poi ripeto io adesso magari sto enfatizzando quella cosa lì è chiaro che tutti possiamo essere vanitosi o possiamo avere voglia però le tipologie 3 sono sicuramente quelli più del mondo di successo ad esempio il mondo del futurismo ballano cioè le personalità nell'essere veloci il mondo che deve comunque cioè il predatore cioè le personalità che devono comunque no e il mondo 3 cioè non so una personalità 3 anche ad esempio la bellissima già in fonda no e sono anche molto camaleontici no cioè magari però sono personalità che cioè poi alla fine no cioè devono riuscire a trovare il loro equilibrio appunto cercare di essere anche autentici di vivere nell'autenticità quindi diciamo l'autenticità è la virtù a cui devono tendere poi rimaniamo ancora nella triade del cuore e c'è la tipologia 4 il romantico tragico e qui l'invidia l'invidia perché invidiano non tanto magari quello che l'altro possiede ma quello che ha che ha lui per come lui no cioè gli altri sono sempre meglio quindi la tipologia 4 si sente sempre un po' il piccolo calimero no cioè piccolo e nero non riesce mai quindi somente la sua autostima scende un po' insomma la tipologia tra l'altro invece tra tutti e nove gli eneatipi sono quelli magari più artistici sono i veri artisti no cioè ad esempio la Francia la Francia bohemian e è proprio un mondo 4 no cioè questo mondo appunto romantico tragico no queste donne non so come la Edith Piaf queste no queste cose struggenti no Van Gogh insomma personaggi che ovviamente no magari anche belli e dannati tipo il Johnny Depp forse Modigliani e quindi è proprio un mondo dove però tra tutti sono in realtà poi quelli molto più sensibili no per le personalità che devono però andare a tendere all'equilibrio perché altrimenti così finisce che non no infatti qui troveremo poi per l'enetipo 4 il primo arcano di riferimento l'imperatore quindi l'imperatore che proprio dà la stabilità cioè colui che concretizza perché alle volte le tipologie 4 sono troppo così nella tutto nella spiritualità magari pensano sempre al passato ricordi ricordi no cioè quindi sono quelle persone che magari sono magari tristi o che si piangono addosso no e poi passiamo alla triade della mente dell'intelletto e incontriamo l'enetipo 5 quindi la tipologia 5 e qui è l'avaro l'avarizia non tanto avaro magari nel dare le cose magari anche quello però è avaro di sé nel donarsi nel donarsi agli altri preferisce rimanere sulla sua torre d'avorio elostrica ecco un animale totem del 5 l'ostrica in realtà dentro cresce una perla quindi ed è l'osservatore magari sono quelle persone che magari preferiscono rimanere lontano seduti nell'ultima fila non si fanno magari tanto notare preferiscono rimanere a casa se si sono comprate un bel libro anche se magari lo chiami o la chiami ah no 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 stasera mi sono comprata il libro di Carla sto a casa a leggermi il libro non esco con i miei amici non preferisco stare a casa sono personalità che vivono anche con poco quindi magari possono anche essere anemici avere proprio anche quindi ecco che qui c'è la paura dell'altro qui nella triade dell'intelletto diciamo come forza c'è questa paura quindi il 5 ha paura dell'altro ovviamente deve andare verso la donatività e verso la generosità vedremo che l'ultimo arcano di riferimento per l'enetipo 5 è la bellissima stella l'arcano 17 la stella con l'acqua marina come pietra così inizio anche a citare qualche pietra l'arcano 17 la stella e vedete che la figura rappresenta è proprio una fanciulla inginocchiata quindi è nella donatività quindi è proprio la carta insomma che per il 5 adatta per lavorarci ed è bellissima e poi andiamo avanti troviamo l'enetipo 6 e qui c'è sì la paura quindi ovviamente deve attraversare questa paura andare verso il coraggio e quindi qui c'è l'ambiguità la lealtà la slealtà la tipologia 6 tra l'altro vedremo io adesso non ho parlato dei sottotipi magari poi ne accendiamo un momentino per la tipologia 6 vedremo che i tre sottotipi vengono chiamati denominati in un altro in un altro modo rispetto agli altri aspetta che scusate si vede fobico controfobico e sociale mentre per le altre le altre tipologie abbiamo il sessuale il conservativo e il sessuale sociale conservativo e ho detto sessuale sì sto dicendo tante cose però appunto facciamo poi un attimo la marcia indietro dopo di questi tre sottotipi però il 6 ricordiamoci che ha questa particolarità quindi la tipologia 6 c'è la paura per cui devono vincere questa paura andare verso il coraggio la tipologia 6 sono le tipologie che preferiscono tra virgolette vivere nel branco hanno bisogno di sicurezza magari le donne 6 si sposano anche giovani hanno bisogno subito di trovare un compagno un marito preferiscono avere comunque qualcuno al fianco cioè quindi hanno bisogno di sicurezza ad esempio il mondo militare è un mondo 6 proprio perché ci sono delle regole io rispetto le regole quindi anche l'uno il perfezionista rispetta le regole perché è giusto che sia così pago le tasse faccio così faccio cosa il 6 è mosso però da un'altra dalla paura mentre l'altro è perché è giusto dicono così e bisogna rispettarle cerco di rispettarle al meglio ancora sarò ancora più capillare nel rispettarle quindi vedete che poi cominciamo a comprendere che ogni tipologia ha un suo sentito proprio anche nei fatti della vita e anche negli incontri delle persone nell'ambiente di lavoro eccetera quindi questo è anche importante poi andiamo avanti e troviamo l'eniatipo 7 l'eniatipo 7 ha paura del dolore ha paura della noia quindi scantona scappa da tutte quelle situazioni dove invece dovrebbe cercare di attraversarle il primo arcano di riferimento è proprio l'innamorato l'arcano 6 che è proprio la scelta ed è l'ambiguità infatti è proprio no e quindi sì sì e poi vabbè poi c'è l'appeso e poi c'è 12 e 6 18 la luna quindi e poi vedremo che abbiamo adesso poi qui c'è poi magari ve la faccio poi vedere ve la faccio passare così dopo prima finiamo di spiegare un po' gli eniatipi e quindi l'eniatipo 7 la gola il goloso il non averne mai abbastanza quindi è la tipologia che ama i piaceri della vita no e la farfalla la personalità che ama passare di fiore in fiore no che preferisce non so magari stordirsi con tante cose anziché no sono le persone magari sempre proiettate no Gurdjieff diceva che non erano mai in casa no perché comunque sono sempre proiettati a scappare da qualcosa da qualcuno no e invece devono cercare ovviamente di essere più sobri no e quindi magari tutta questa loro felicità o gioia di vivere farla sì diventare una gioia anche per gli altri ma in un modo ovviamente sobrio nel modo no appunto talentuoso e poi andiamo ritorniamo al verso la triade dell'istinto e troviamo l'enetipo 8 qui la lussuria anche qui ama i piaceri della vita però qui lussurioso l'enetipo 8 è un territoriale qui è il capo quindi ha la sua giustizia la tipologia 8 ha magari non so protegge il suo clan i suoi amici e poi la tipologia 8 sicuramente se litiga non si fa problemi non ha come dire subito dopo magari ritorna col sorriso sulle labbra la tipologia 8 sono quelle personalità che comunque le senti entrare quando entrano in una palestra o quando entrano in una libreria entrano in un negozio no e sono persone personalità molto potenti il mastino per rendervi l'idea è uno degli animali totem la tigre l'animale totem dell'otto no l'otto è arriva mentre il 3 dicevamo prima è un predatore anche il 3 però è più una strategia il fine giustifica i mezzi il 3 magari come l'aquila arriva vede la preda la prende l'otto niente l'otto arriva e si cala su quello che vuole prendere e se lo prende se lo porta via quindi ovviamente il lussurioso deve tendere all'innocenza deve tendere all'amore deve tendere insomma ad una dolcezza che alle volte magari l'otto non sempre ha e poi quindi questa rabbia lui chiaramente non si fa problemi a tirarla fuori noi dicevamo che l'otto e il 9 sono quelli più istintuali quindi hanno più di pancia e poi arriviamo a colui colei che chiude il cerchio il 9 ed è qui il mediatore qui è l'accidioso è la pigrizia i 9 sono anche dei grandissimi lavoratori però la loro accidia è più forse un non volere guardarsi dentro cioè sono quelli che vengono chiamati i Buddha non illuminati cioè non hanno cioè non vogliono magari entrare dentro a scoprire delle cose di seno preferiscono magari rimanere così poi sono personalità che non amano entrare in conflitto quindi assolutamente fanno i muri di gomma vogliono vivere nella calma nella pace nella tranquillità quindi è ovvio che alle volte non sempre si può comunque sono abitudinari l'animale totem per il 9 è il delfino quindi le rotte collaudate le abitudini gli stessi amici poi comunque sono persone molto di compagnia poi con l'enneagramma insomma si formano si possono fare anche le coppie vengono fuori 45 coppie c'è il triangolo della felicità il 2 il 9 il 7 che sono le tre tipologie magari che più sono quelle più espansive tutti lo sono però queste tre tipologie sono quelle più dicevamo il 9 magari che organizza le cene tra i colleghi tra gli amici è sempre quello che cerca un po' di tenere le fila della compagnia e quindi ecco che qua molto velocemente abbiamo fatto un escursus delle 9 tipologie non so è stato abbastanza chiaro anche se con poche parole qualcuno ha qualche domanda scusate non volevo solo chiedere l'8 l'enneagramma 8 è legato anche alla carta del tarotico e l'8 sì 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 certo ognuno ogni enneatipo vediamo qua sì perché adesso magari adesso lo diciamo perché magari parlando allora vedete qua c'è l'enneagramma e da 1 a 9 ho proprio abbinato i primi i 9 arcani quindi l'enneatipo 1 allora abbiamo in mezzo il matto nel senso che il matto è fuori fuori dal coro il matto rappresenta tutti e poi infatti e poi arrivi e e scegli di incarnarti in una delle 9 tipologie poi per ogni tipologia alla fine insomma degli abbinamenti avrà sul suo bagaglietto dentro la sua valigia 3 arcani con cui cominciare a lavorare è ovvio che gli arcani parlano a tutti no siamo di nuovo lì come gli enneatipi è chiaro se io mi riconosco in quella base però il mio lavoro è quello di cominciare a capire quali sono i miei difetti cioè a capire perché continuo ad andare in ansia e voglio sempre non mi accontento mai voglio faccio una cosa ma ne voglio già progettare un'altra insomma oppure perché mi arrabbio sempre cercare di di andare quindi a capire queste cose per migliorare e andare verso l'aspetto della virtù e poi però conoscere anche gli altri enneatipi perché giustamente chiaro c'è bisogno se io sono una personalità superficiale che faccio le cose alla Carlona diciamo così però è bene che io dal mio amico uno che invece è un perfezionista vado a prendere quella qualità cioè quindi vedete non c'è un tipo migliore di un altro ognuno ha delle cose da dare ed è bello proprio per questo il viaggio proprio perché no io non so mia figlia è un tre io ho comunque delle cose anche da prendere del tre è chiaro che magari cerco di smorzare non so il suo aspetto adesso lo dico così anche un po' per sorridere cosmetico dipendente perché mia figlia è così no poi io vivo di rendita perché tanto lei compra un rossetto ah mamma questo qui non mi piace me lo dà quindi io non compro niente io vado avanti così però per dire lei ma chiaramente sui suoi mobiletti avrà 14.000 cosine perché non si esce di casa se non sei no e vabbè quello è un aspetto no però per carità va benissimo anche così adesso questo è per così enfatizzare però è giusto che da tutti prendiamo anche poi gli aspetti che ci possono essere utili come dicevamo prima l'uno se è così rigido ma vada anche un po' incontro al sette che magari ti fa divertire anche un po' no oppure non so diventa anche un pochino più come dire romantico va incontro anche al 4 perché comunque la famiglia 4 dicevamo è così sensibile ma caspita impari tantissime bellissime cose da queste tipologie quindi vedete che da tutti c'è comunque qualche cosa da imparare e gli arcani la stessa cosa quindi da 1 a 9 questo sarà il primo arcano di riferimento quindi non so l'entipo 1 il primo arcano è il butler il mago viene anche chiamato il mago del magician però qui nei tarocchi di Marsiglia è le butler dico bene? no perché io è francese scusate che non lo conosco ecco appunto le butler la pronuncia perfettissima è la differenza tra il mago e il matto per dire eh no il matto è il matto e il matto è la carta proprio come il significato eh beh il matto dicevamo vedi che rappresenta proprio il matto vedete è la personalità la personalità scusate abbiamo detto che rappresenta l'iniziato vediamo un po' e vediamo un po' se qua riesco a farvi vedere tutte le carte che le avevo messe anche qua eh dove 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 eccola qua vediamo un po' riesco perché non riesco eccole qua si vedono così si vede vedete che il matto fuori dal coro e poi c'è tutto il percorso no quindi il matto è colui che inizia è l'iniziato l'uno il butler è colui che inizia l'opera quindi lui comincia vedi ha tutti gli strumenti sul tavolo e quindi ad esempio io mi tengo nella borsetta nel portafoglio mi tengo sempre un arcano mi tengo l'arcano 1 perché comunque mi devo ricordare che io ho Carla il mattino esco di casa adesso vabbè non vado più in ufficio però faccio le mie cose mi devo ricordare che io ho tutti gli strumenti per fare non so la conferenza per andare non so a fare un lavoro a aiutare la mia amica che sta facendo un trasloco non so anche delle cose che apparentemente possono essere banali no? ma invece no cioè so che quindi ho i miei strumenti e quindi anche l'autostima anche la tua autostima comunque acquisisce forza cioè alla fine la vita è zen cioè queste cose questi strumenti possono sembrare così misteriosi e distanti ma in realtà vedete quante cose ci stanno insegnando cioè l'arcano 1 mi dice Carla io a casa ho appeso la forza l'arcano numero 11 che tra l'altro è la moglie tra virgolette dell'arcano 1 perché se voi osservate l'arcano 11 adesso io qua non ce l'ho grande da farmelo vedere l'arcano 11 vedete che è vestita come il battler se voi osservate questo cappello a forma dell'infinito ha questo abito c'è molto blu c'è molto rosso beh la forza è a metà del percorso poi soprattutto per noi donne vedete che la fanciulla apre le fauci della fiera di questo leone forse un leone un cane non si sa quindi cosa vuol dire libera la parola soprattutto noi donne che per migliaia di anni siamo state no? cioè ma parla grida dillo al mondo no? invece noi no no quindi ecco come queste carte vedete quante cose hanno da dire no? e così via quindi dopo l'uno il nostro amico chi incontra la papessa la papessa ha il libro in mano e quindi ok cominciamo a studiare per quale motivo siamo qua? eh vogliamo conoscere mica vogliamo continuare a fare la nostra vita così in balia di che cosa e così via e poi sono tutte tappe dopo la papessa incontriamo la bellissima imperatrice arcano 3 il primo arcano per l'entipo 3 la bella donna infatti tra l'altro osservate la carta perché poi veramente i simboli cioè a me vengono i brividi perché le carte veramente sono una cosa incredibile guardate osservate l'imperatrice cosa sta guardando? un globo il globo terrestre sta guardando la terra quindi è nella materia chi più di lei quindi può rappresentare anche l'entipo 3 che comunque io mi mostro al mondo però ovviamente dobbiamo prendere la strategia giusta dell'imperatrice le sue idee la creatività è una madre una madre che sa gestire la sua famiglia è un'imperatrice l'imperatrice quindi ci avrà dei sudditi sotto di lei quindi noi dobbiamo tra l'altro noi donne dobbiamo incoronarci da sole alla fine dobbiamo fare così e poi via via il 4 abbiamo detto la concretezza il 5 trasmettiamo magari le cose che abbiamo imparato e come le trasmettiamo? con il cuore con l'amore incontrare l'innamorato incontriamo l'amore c'è un gruppo di persone forse è giusto che io mi scambi delle cose con gli altri le porto magari in giro per il mondo ho il mio carro ho la macchina ho la moto io viaggio in treno e lo porto in giro no vedete come le cose devono vediamo una sparita si dimmi una cosa ho visto nel grafico dell'ennagramma allora nel primo c'è solo un triangolo chiuso ora li vedo che sono stati fatti i trattettini eh sì perché questa è la parte magari un pochettino più così particolare complessa diciamo così che è un po' più per gli addetti ai lavori è chiaro che chi conosce l'ennagramma e io non voglio assolutamente togliere nulla l'ennagramma classico che è quella stella nove punte che si vedeva lì nel primo cioè questo l'ennagramma classico è questo la stella nove punte dove vedete che c'è un triangolo equilatero tre se voi guardate il tre il sei e il nove beh si vede bene guardate vi faccio passare la carta così la passatela tra di voi così vedete anche perché è interessante perché il tre il sei e il nove hanno una connessione aspetta vediamo qua forse su questo qua si vede bene allora io l'ho rimesso sulla slide perché l'ennagramma è formato da un triangolo equilatero e da un esagramma particolare ma questo perché vi ricordate che abbiamo parlato dei trecenti di energia guardate anche la slide che ho messo adesso vedete che c'è le viscere il cuore e la mente ma soltanto il tre il sei e il nove hanno la connessione quindi è come se solo questi tre si scambiassero questi trecenti di energia negli altri in realtà non c'è questa connessione però grazie al lavoro che così insomma ho tirato fuori dalle carte con le carte grazie all'aiuto delle carte tutte e anche tutte le altre tipologie arrivano ad avere questa connessione e quindi è come dire è una cosa in più è una cosa più più completa perché giustamente noi dobbiamo sempre portare equilibrio nella nostra vita in tutte le cose e quindi faccio adesso ancora un attimo vi passo indietro perché dicevamo dei sottotipi che tante volte magari non se ne parla o c'è magari meno tempo invece comunque è importantissimo perché i sottotipi sono tre quindi ogni n a tipo ha tre sottotipi quindi è come se io fossi seduta su uno sgabbello con tre gambe dove magari una delle tre è un po' più corta e quindi devo sempre cercare di mantenermi in equilibrio quindi io ho l'aspetto conservativo ho l'aspetto sessuale e ho l'aspetto sociale per cui la base è quella quindi io mi sono riconosciuta nell'enna tipo o tre e quindi quella è la mia base poi magari sono più sessuale se do molta importanza al mio rapporto one to one con il mio partner o con mio figlio mia figlia sono un sociale se sono più nel mondo sociale per come sono se sono più conservativo è perché vado più a me stesso più alla mia famiglia più uno quindi diciamo il sottotipo può cambiare ma può cambiare anche nella giornata cioè io in questo momento sto facendo il sociale perché sono qua davanti a voi e quindi devo anche vincere la paura del pubblico devo mettermi a parlare davanti però sono sociale non so ricevo magari una telefonata che ma non lo so una telefonata un po' più triste che magari è successo un incidentino è successo un qualche cosa magari mi spavento e allora finisco nel conservativo perché comunque magari mi viene da piangere mi commuovo magari mi è arrivata una brutta notizia mi sentono quindi in quel momento sono più conservativa sessuale se sono se do molta più importanza magari al rapporto appunto one to one e vi ricordate che prima avevamo accennato all'entipo 6 che invece lì le tre i tre sottotipi vengono chiamati fobico controfobico e sociale quindi lì la stessa cosa il sociale il fobico è proprio il pauroso e il controfobico è quello che è rambo rambo è un controfobico perché lui pur di chiaramente non aveva paura di niente andava non è neanche un otto è proprio un controfobico perché l'otto non ha paura l'otto invece comunque la tipologia il Silvestre Stallone nel film rambo rappresenta proprio la tipologia e ne ha tipo 6 controfobico cioè perché addirittura c'è la scena della ferita che si cuce c'è una roba che io non ho fatto ma ci sono delle immagino delle tecniche dei test per scoprire allora io quando sicuramente libri su internet qualcosa allora ci sono ci sono i test anche su internet se uno lo vuole fare anche a modo di gioco può farlo allora poi ci sono i corsi sicuramente i seminari i libri è ovvio che mi rendo conto che non è tanto facile magari scoprirlo da solo perché poi è importante che le persone si auto riconoscano non è bene che qualcuno ti dica tu sei un 3 tu sei un 4 no quindi si devono riconoscere quindi io nel mio piccolo faccio un seminario di enneagramma base proprio anche per cominciare a sgrossare un po' e faccio fare un test che però quello se lo tiene alla persona che lo fa e poi da lì comincia a lavorarci sopra giusto per cominciare un po' a capire a quale tipologia può appartenere e poi vediamo magari se poi qua con Mauro si riesce a combinare ben volentieri magari poi più in là magari dopo l'estate vediamo e quindi potrebbe già essere una diciamo una partenza e poi i libri uno di questi diciamo tipi che viene definito creativo o no? beh sicuramente l'enna tipo 4 dicevamo prima che è proprio l'artista però comunque tutti ovviamente come dicevamo prima l'amore è una cosa meravigliosa ma per tutti e nove gli anni a tipi l'amore è una cosa meravigliosa però il 2 la vive in un modo l'altro cioè ognuno la vive ad esempio le tipologie 3 in genere si dicono cioè io amo quella persona però quando io sto facendo qualcosa di importante non voglio nessuno mentre ad esempio l'altra tipologia avete visto io so bene magari io vedo hai freddo ti porto la copertina poi magari sono quelle persone che alla fine rischiano di diventare manipolative no? perché ovviamente ti combinano ti organizzano magari la vita dimmi voglio sapere lei partì più un dottore cioè no no io non sono un dottore no nel senso è una cosa che uno può venire da lei per i consulti dei tarocchi sì di tarologia sì come funziona attraverso le carte e allora se la persona sa conosce già quale ne ha tipo possiamo partire dalle tre carte che sono associate altrimenti bisogna però fare il percorso perché ovviamente bisogna cercare di cosa è questo questo percorso beh allora nel seminario appunto come stavo dicendo a lei prima prima di iniziare il seminario si fa un test che lo tiene la persona poi quando ci si trova si comincia a studiare le nuove tipologie e poi c'è il momento di condivisione il momento anche in cui magari si guarda anche questo test ma la persona eh sì eh sì sì poi magari c'è il momento di no 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 e non è no 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 eh sì 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 ha ragione certo no 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 perché non è proprio è una cosa che proprio poi è la persona che deve comprendere ma perché è giusto che sia così eh come fai con le carte c'è una cosa miracolosa no 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 allora il consulto di tarologia è il consulto di tarologia quindi si parla con le carte viene fuori il discorso con le carte e lì non c'entra l'enneagramma per mettere insieme l'enneagramma la persona che vuole il consulto con quelle tre carte deve già conoscere il suo enneatipo se vuole fare un consulto personale che che riveli cioè che riveli che si possa partire dall'enneatipo altrimenti si fa il consulto con le carte tranquillamente questo qui è una cosa consiste non ho capito eh no beh il consulto con le carte è una consulta con le tarocchi la lettura dei tarocchi non lo so ah ok si fa il consultante può fare una domanda ai tarocchi si cominciano a scegliere tre carte il consultante sceglie tre carte dai 22 arcani maggiori e poi nell'eventualità se c'è bisogno si aggiungono anche gli arcani minori perché il mazzo di tarocchi e anche lì dobbiamo anche dire due parole dei tarocchi il mazzo di tarocchi è composto dai 22 arcani maggiori che avete visto qua e però anche da 56 carte dei minori perché abbiamo dieci numerali e le quattro figure delle spade dei denari delle coppe e dei bastoni che rappresentano ehm i semi quindi rappresenta proprio la parte ehm le coppie rappresentano la parte del cuore il sentimento le spade e la mente il fuoco dei bastoni rappresenta l'energia vitale il lavoro e i denari rappresentano il denaro o anche proprio il nostro corpo fisico mentre i 22 arcani maggiori ovviamente con le loro simbologie e con i loro disegni ehm ovviamente qui eh insomma ci sono delle sono degli archetipi qui eh ci sono delle simbologie molto più profonde ancora più profonde cioè basta osservare le carte se voi vedete abbiamo visto che è proprio un percorso è un cammino che fa il matto e eh fino a arrivare al mondo e il mondo è il suo obiettivo non so se sono stata chiara le carte no fammi la domanda cioè che cos'è che allora io ho compo un mazzo di carte sì ecco questo è un mazzo che uno compra sì questo insieme agli arcani minori sì tutto il mazzo sì e cosa faccio pescolo ah no ah vabbè sì beh quello è un lavoro che puoi fare per te stessa ehm puoi pescare una o due carte tutte le mattine e e vedere che cosa ti succede nella giornata è chiaro che bisogna un minimo anche qui conoscere i tarocchi e quindi o ti prendi dei libri sui tarocchi e fai l'autodidatta oppure anche qui fare qualche seminario tra l'altro qui il 9 febbraio c'è stato il mio insegnante dei tarocchi che ehm proporrà qui a Firenze il suo seminario sui tarocchi e comunque più o meno la cosa è che peschi sì caso diciamo certo sì 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 e vuol dire che quello è questo che hai che sei oggi e che sei non lo so può essere sì come la lettura eh tipo beh se non hai nessuna domanda da fare osservi la carta e vedi che cosa succede come dicevo prima ad esempio per me è importante il battler che mi ricordi che comunque io ho perché tante volte io non me lo ricordo no perché noi viviamo in un modo inconscio vi facciamo le cose in modo automatico no il battler mi ricorda Carla ma guarda che tu puoi farcela tu Carla hai tutti gli strumenti per fare queste cose per andare avanti per non so io insomma mi sono ritirata su da una situazione drammatica nel 2015 no che mi sono trovata senza casa senza soldi senza eh insomma e quindi lì le strade erano due o decidevo di farla finita o decidevo invece comunque anche l'aiuto delle amiche eccetera mi hanno tirato fuori mi hanno tirato su mi hanno tirato mi hanno detto ma come Carla tu conosci tutte queste cose perché non scrivi un libro ecco che è nato un libro e devo dire grazie ai tarocchi devo dire grazie anche all'enneagramma oltre che alle mie amiche che mi hanno sostenuto e mi hanno detto Carla ma cioè ma perché ti devi rovinare la vita lei è una treppero io no io mi sono riconosciuta nell'ennea tipo 7 nel goloso nel goloso sì qualcuno lo sa che io amo i dolci sono anche proprio goloso sì 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 no ma diciamo che io mi vedo molto nel sì nella gola ma la paura del dolore sicuramente perché io ricordo anche proprio faccio gli esempi su di me perché giustamente le prime cose che io facevo quando andavo anche in ufficio a lavorare e poi quando ero sposata magari chiamavo mia mamma e io già perché mia mamma niente ha fatto insomma tutta una storia di malattie eccetera e già solo come mi rispondeva se io sentivo se io sentivo avevo proprio paura però quella telefonata e lì è la come dire quella invece è la mia fase 1 perché l'1 chiaramente rigoroso e senso del dovere io dovevo chiamare tutti i giorni mia mamma e mio papà per sapere come stavano e quindi alzavo la cornezza cioè ha detto qua vediamo come mi risponde se sentivo il tono di voce tragico a parte che mi sentivo i brividi stavo proprio male invece se sentivo che stava bene ero proprio proprio la gioia no cioè proprio da quasi da da bambina quasi da veramente da adesso vabbè sto dicendo così no però comunque è vero devo dire la verità alle volte magari stavo veramente male per questo è chiaro che insomma un po' di lavoro su di me poi passano gli anni e tutto insomma io poi comunque sono stata accanto a mia mamma e mio papà me li sono accuditi fino alla fine anzi persino i medici mi hanno persino detto mamma mia che devozione per questo padre e io non c'è giorno anzi questo è un altro esercizio che vi la mia amica che fa le costellazioni familiari che mi ha insegnato da fare tutte le mattine la prima cosa ringraziare a prescindere ringraziare a prescindere mamma e papà perché poi alla fine cioè dove vogliamo arrivare tutta questa roba qua che facciamo chi fa lo yoga chi fa teta healing e chi fa qualsiasi cosa ma alla fine dove vogliamo arrivare semplicemente all'amore si starebbe all'amore a ritornare ad avere l'amore della mamma e del papà è quello alla fine è quello non c'è ma allora allora è un po' così ma sì 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 ma allora dunque intanto vi dico che c'è intanto vediamo anche che ora è perché magari qua devono chiudere allora intanto c'è una tipologia che dice ah io non sono lo dice proprio ah io non sono nessuno di questi perché non vuole essere omologata quindi questa persona questa personalità qui non va alla moda è oltre la moda e non va così perché ma c'è ed è e c'è proprio una tipologia quindi perché non c'è la decima è una di quelle e poi c'è un'altra tipologia che si riconosce un pezzettino in tutti e però c'è è lì dentro anche quella e quindi però lì bisogna adesso non ve lo posso fare perché sennò poi magari condiziono e non va bene però intanto va bene intanto sul mio libro intanto è descritto il capitolo dell'enneagramma ed è scritto il capitolo dei tarocchi e dei cristalli è ovvio che insomma un libro di 130 pagine sono stati scritti i fiumi di parole e sui cristalli e sui tarocchi e sull'enneagramma quindi voi dite certo che è un bignamino non è un bignamino perché comunque descrive secondo me insomma insomma è stato per me un grande lavoro ed è ed è molto descrittivo insomma c'è tutto poi però chiaro da lì bisogna partire quindi anzi forse proprio proprio perché insomma nella sua semplicità infatti può essere proprio un bel punto di partenza e poi è chiaro le persone che vogliono mettersi in discussione hanno voglia di lavorare e poi bisogna mettersi lì e farlo io cerco di farlo tutti i giorni perché per me continua non so magari poi magari c'è l'amica c'è qualcuno che ti dà l'input magari ti senti con qualcuno ho pescato quella carta ma che cos'è ho per quel cristallo ci può aiutare insomma poi sono poi tante le cose che non so che altro dire di cosa dire ce ne sono tantissime adesso non so se voi avete dimmi ah pensavo avessi la domanda ho visto vediamo una domanda mi chiedevo se c'è sicuramente ci sarà però insomma una relazione tra questi aspetti cioè soprattutto diciamo i tarocchi e la numerologia e l'astrologia sicuramente sì però altro mondo altra forza su tutte quelle cose lì non sono così competente perché già ho messo però sicuramente sì perché Gurdjieff Gurdjieff anche aveva proprio parlato di Enneagramma e astrologia con gli astri sì sì quindi da qualche parte c'è anche un disegno molto esoterico perché appunto ripeto sono tutte cose molto particolari addirittura alchemiche ma e anche sull'astrologia ma i tarocchi stessi anche nei tarocchi stessi perché se vi ricordate il matto che guarda l'ultima carta guarda la carta del aspetti torniamo indietro magari qua dove c'era scusate andare buona serata grazie grazie allora vediamo un po' qua no dove sono quella carta sono le carte eccola qua se voi osservate il matto vedete che guarda l'ultima carta l'arcano numero 21 e nell'arcano numero 21 c'è comunque c'è tutto c'è lo zodiaco c'è c'è Sirio no e quindi infatti lui sta guardando di tornare a casa no perché comunque no così come come dice la tavola la tavola smerandina come in basso così in alto no per fare poi tutte le cose in un'unica cosa questo è proprio il detto alchemico e lui comunque sta guardando il suo obiettivo che è quello di tornare a casa noi siamo comunque fatti della materia di cui sono fatte le stelle può essere Sirio può essere voglio smettere di fumare può essere mi voglio laureare voglio cambiare uomo voglio cambiare lavoro voglio cambiare casa e quindi il nostro amico no magari può attraverso la tarologia cercare magari anche di capire qual è il modo migliore qual è la via no per arrivare a quel goal a quell'obiettivo no all'arcano 21 e quindi è così e e poi dunque cioè questo perché ok grazie beh questa anche sono due carte no che messe insieme sono belle toste su cui già tutti gli eneatipi possono lavorarci sopra no abbiamo l'arcano 15 il diavolo che quindi il diavolo che cos'è è l'illusione maya quello in cui il mondo matrix forse avete visto il film matrix quindi quello veramente descrive molto bene è uscito una trentina d'anni fa quel film però è molto super attuale e quindi noi viviamo lì dentro e difatti sarai tentato ogni giorno di reagire nello stesso vecchio modo di sempre poi però appunto magari arriva il matto arriva qualcuno però poniti questa domanda se vuoi essere prigioniero del tuo passato o un pioniere del tuo futuro e quindi vedete che il matto invece ci invita insomma a strappare quelle catene no a rompere quelle corde e quindi andare verso una situazione di vita migliore sì scusa per quello che viene poi anche perché proprio è interessante inizia con il matto e finisce qui cioè è un certo sì 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 il matto ritorna può sempre ritornare perché questa è poi l'esperienza che poi si fa nella vita e come dicevi all'inizio il fatto di il bisogno comunque di volersi conoscere di chi farsi questa domanda ma chi sono ma cosa faccio qui e dicevi che questo comunque avviene poi dopo una certa quando siamo più maturi sì è certo che effettivamente vedo che il giovane se lo fa è certo che se l'enneagramma fosse insegnato nelle scuole magari dalle scuole medie cioè i bambini i ragazzi forse no perché uscirebbero fuori delle persone troppo troppo aperte e questo sistema non lo vuole però è esatto però però lo so però vedete che invece magari così già i ragazzi potrebbero conoscere i propri talenti perché l'enneagramma vedete che fa venire fuori il vero talento della persona non quello che mi ha detto la zia di fare il papà mi ha detto no però si parla senza mancare di rispetto si parla con cuore si parla con amore con i genitori con il compagno con la moglie con i colleghi di lavoro capite vedete che l'enneagramma a questo punto mette veramente anche nell'ambiente di lavoro sai che il tuo capo è un uno questo che vuole cose perfette insomma sono tante non poi le cose però anche lui o lei se sa gli altri come sono non so magari il 4 che è creativo mettetelo a appunto non so a dipingere o fare un qualche cosa di creativo per l'azienda il 3 il 3 che è così veloce per gli obiettivi fa soldi mettiamolo un buon leader insomma così via il 7 che magari non vuole annoiarsi fateli fare un lavoro nuovo ogni settimana cambiatelo di ufficio e ottenete sempre tanto quindi vedete che no sono come come possono essere come le carte possono essere di ambito eh il lavoro un po' era quello che diceva la signora nel senso che comunque perché ad esempio non so io tutte le mattine estrago una carta no è un modo anche proprio per al di là di 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 cominciare con le carte appartenenti a quell'eniativo però va bene anche con qualsiasi altra carta di meditarci su vedere che comunicazione ti possono dare che cosa ti danno è chiaro che un minimo bisogna conoscere i tarocchi però però mi curiosiva proprio le tre carte relative all'eniativo una volta cioè perché mi sembra di aver capito sì sì si può già sì sì eh ma vi ricordate che prima avevo fatto l'esempio dell'esempio della stella che era il terzo arcano di riferimento per l'eniativo 5 che non sta nella donatività la stella l'avete vista che carta che è no c'è proprio la carta invece della generosità è proprio il simbolo quindi diventano un po' risorse eh certo sì 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 e poi magari come risorse esatto no quindi la chiarezza la trasparenza l'acqua cristallina il donarsi questa fanciulla che si mostra no così con umiltà con umiltà esatto sì e quindi vedete che poi ogni carta no ha qualche cosa da comunicare da e da dire quindi io vi invito a leggere il libro perché sicuramente quello può essere un punto di partenza poi non so se qualcuno è interessato per fare il seminario dell'enneagramma cominciare da lì possiamo poi chiedere a Mauro e tanto magari se voi siete in contatto con la libreria vi fa avere le cose non so io gli argomenti vi sono risuonati sì i libri ce li ha lui di là vi sono risuonati vi sono piaciuti sì sì un po' chiaro mi sono rimasti mille domande eh ancora una domanda sì dai c'è qualche punto di tutti questi di una persona che ha tante domande sì può essere sì può essere sempre quella lì di prima però bisogna cominciare sì magari a studiare sì cominciare già intanto a leggere qualcosa sicuramente lei mi insegno è Vergine ah Vergine sì vabbè eh sì che ha bisogno di elementi sì intanto sono curiosissima penso che è bello il calcio eh beh però bene io sono sempre stesso qua ma non solo qua perché tutto ebbè ma bisogna essere curiosi certo è bello quello è come dire la benzina anche no della non è andata anche nella vita così no di entrare in più campi sì diversi tra loro completamente eh no no quindi bene bene e poi ci sono altre domande non so se c'è ancora una domanda forse per uno spazio ma questo può essere sì magari un invito perché vedete che diventa uno strumento come dire di meditazione può essere sì può essere interessante poi comunque su ogni carta perché eh adesso qui si aprono anche qui dei mondi perché ma i tarocchi sono antichissimi i tarocchi ma addirittura in una commedia scritta da Giordano Bruno nel 1500 qualcosa parlavano di un giuoco di carte ma oppure ad esempio io non so se voi siete mai stati al museo Carrara a Bergamo c'è la la famosa la eh i tarocchi dei Visconti Sforza che sono sembra infatti non tutte perché alcune di quelle carte sono a New York in una biblioteca di New York però comunque la grande parte del mazzo è a Carrara che se poi vi capite di andare a vedere sono eh sia il museo Carrara scusate mi divergo che si confonde che tra l'altro è bellissimo però ecco anche lì queste carte nell'antichità in quel periodo chi lo sa per quale motivo adesso quel mazzo in particolare era stato un dono quando c'è stato questo matrimonio e pare che comunque sia un mazzo di laminate d'oro quindi costosissimo una cosa veramente preziosa che soltanto le famiglie patrizie ovviamente potevano permettersi però pare che in alcune di queste carte ci sia come un forellino adesso non so se in quelle o comunque in quei secoli in quel periodo perché forse venivano appese potrebbe anche essere come dire un indizio di un utilizzo proprio meditativo chi lo sa quindi c'è ancora veramente tanto da scoprire per cui vedete quante cose ci sono dietro i tarocchi ad oggi quale si ipotizza sia l'origine prima dei tarocchi cioè la prima manifestazione il mazzo dei tarocchi di Visconti Sforza è del 1430 1450 però ci sono delle cronache che registrano l'utilizzo di questo giuoco di carte ancora prima ancora antecedente però è chiaro che prima le uniche persone che potevano scrivere e trattare di queste cose erano negli ambiti monacali perché chiaramente nessuno sapeva leggere e scrivere quindi erano quelli forse gli ambiti però e poi nel corso dei secoli ogni mastro cartaio ovviamente ha dato un po' la sua la sua variante in particolare però questi che utilizzo io che sono quelli restaurati da Carlo Bozzelli lui si è rifatto al mazzo dei tarocchi di Marsiglia di Nicolas Convert quindi francese del 1760 perché pare che pare che siano comunque quelli che più hanno mantenuto fede al simbolo al disegno poi comunque ce ne sono tanti altri all'inizio del novecento era poi uscito il mazzo di Rider White con i disegni bellissimi perché sono in stile insomma Liberty sono molto molto belli sì da Rider White e li aveva fatti disegnare da questa pittrice da questa artista Pamela Smith e questo è un mazzo di tarocchi americano che è anche molto usato però sono un po' diversi quindi sono proprio diversi sono bellissimi sono molto belli però infatti lì ad esempio lì che si è scritto il mago The Magician e quindi insomma è anche il matto in una direzione diversa mentre qui il matto ha la direzione verso il futuro nei Rider White è passato anzi è quasi sull'orlo di un precipizio quindi è una sensazione proprio completamente diversa però poi lì ognuno e questi hanno una continuità anche con quelli dei Visconti Sforza o no? sono diversi sono proprio diversi Visconti Sforza sono bellissimi perché sono cioè proprio di un'eleganza di una cosa però sono completamente diversi tra l'altro due carte andarono perse mi sembra quella che loro chiamavano la torre mentre qui nei tarocchi di Marsiglia è Maison Dieu Casa Dio quindi vedete come anche il nome diverso perché dire entro in una torre già ti fa effetto entro in Casa Dio mi sembra di entrare in un posto dove c'è luce dove c'è bellezza dove si sta bene quindi vedete come è già diverso mi sembra proprio la torre e forse il diavolo non sono mai state trovate quindi le hanno ridisegnate le hanno ricreate ma e quelle forse andarono perse però comunque vale la pena sono vederle perché sono un'opera proprio stupenda grazie grazie a voi grazie grazie allora adesso qui non so magari mi chiamate solo magari Mauro un attimo grazie perché non so se deve staccare grazie 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 grazie